salve a tutti ragazzi bentornati sul canale zo players andiamo avanti con snapper elite 4 con la cantiere navale iniziamo la missione insieme in cooperativa con methu 2887 ciao a tutti i ragazzi no che andiamo avanti con la campagna inizio missione vai ok ragazzi questo posto brulica di guardie meglio non farsi vedere se voglio ottenere le informazioni che mi servono come detto nel video precedente vediamo se riusciamo a fare qualcosina di un po più di stealth allora io do un'occhiata un attimino alla mappa matti perché capire bene i vari obiettivi che abbiamo allora ok questi qua allora abbiamo trova le informazioni scopri dove sono i diretti i carichi espressione all'aria neutralizza i riflettori distruggi i cannoni individua le spedizioni indaga al magazzino sì però quelle principali sono quelle con le stelle praticamente della storia principale sono quelle stelle poi se ci teoricamente dovremmo capitarci in mezzo ai a questi qua secondari magari facciamo vediamo un attimo distruggi i cannoni quindi partiamo a destra loro sì io dire di partire a destra con i riflettori che dice 12 metri che l'ho selezionata abbiamo quella di 212 metri perfetto quattro uccidere infatti c'è che ci toccherà andare un attimino diri mi metto intanto il sassi qua secondo me da utilizzare un pochettino con un discorso sassi mai tu lo attivi io vado a dire che non ricordo male con l'analogico con il triangolo se non mi ricordo neanche perché in costo poche io ho tirato di qua ma è distratto distratto indietro di terra perché stiamo alternando come si si vede dal canale vai vai matti stiamo alternando la serie il posto re con con uno stai per quindi magari speriamo di averci un po' così si 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 viene andato di qui qualcosa si vai possiamo anche alzarci un attimino se no mettiamo tipo mille anni ad arrivare al punto da mare che non ci sono tanti nemici si però qua c'è una bomba una bomba occhio ci sono le mine 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 c'è una mina davanti si si qui in fondo ce l'ho vista no no ce l'hai proprio davanti davanti a te ce l'hai si si ok perfetto qua c'è un'altra eh una da di si si quella col filo dai jump ok poi c'è un'altra qua c'è un altro nemico di fronte a maga vai selezionare un attimo ma che intanto disinnesco questa qua selezionato io si si no per vederli campo minato abbiamo passato poi abbiamo ma guarda qua che si taglia le unghie non dovrebbe venire qua dietro dai eh si seleziona un attimino quelli che posso un attimo lo cazzo è il puntatore ok io mi butto un attimino qua mati però eh nel cespuglio magari vuoi che tra il tiro col sasso no 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 aspetta intanto c'è il cespuglio a sinistra vediamo un attimo se riusciamo ok a tiro verso il cespuglio se riesci si nel nel secondo cespuglio dove ci sono le gomme vai andiamo un po' se ci sono le gomme dove ci sei te o se lo vanno solo io si 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 vai dovrebbe averlo sentito no teoria si punto interrogativo ok era cazzo io però c'ho le guardie che mi guardano di qua no non ti dovrebbero vedere a quella distanza da me eh capito ma in teoria un po' troppo distante dal cespuglio però cazzo è la massimo lancio che potavo fare ok ok sta andando in quell'altro perfetto ok vai ok vai no aspetta eh un suono un suono ok perfetto occhio occhio che spuglio danni vengono a controllare il corpo ok appena arriva lo secco cazzo matto il secondo pensaci te eh pensaci te il secondo eh ah aspetta 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 cazzo eh sono dovuto uscire sono dovuto uscire per forza ma beccato caputana si è giù eh si si aspettiamo un attimino eh qua devo sparare l'armistia no no aspetta 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 un attimo si è fatto vedere no no non stanno sprando a me stanno sprando a te la mia stanno sprando a me basta dai devo reagire problema che c'era ho visto non mi trattaci di ripostazione qua se non mi sbaglio arrivano due da verso di te ok ok teoricamente sono individuato te no però ma ti aspetta eh no io no io mi prendo magari quello di destra te e sinistra si quello di sinistra vai cazzo si è abbassato per abbassarlo aspetta tu hai fatto lo sparo che tu ghi eh io ce l'ho eh stavo andando ucciderlo con il coltello posso uscire per forza ma ti perché sta arrivando uno vabbè vabbè Dani vabbè Dani eh sono a terra arrivo di qua ma... si dobbiamo anche ne vengono giù piano pianino, dobbiamo riuscire a... stiamo giù, stiamo giù adesso, da qua non ci vedono non lo so eh no eh vedi, lo pensano che sono là in fondo io questo è fuoco il problema è che... cazzo, da quella distanza lì ero convinto non mi vedessero quando abbiamo cercato allora provo a fare una cosa, di starli con un sasso eh aspetta 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 aspetta, mi metto un po' loro ci ha le faccio già un attimo questi qua ma secondo me riusciamo a dare subito su quello da questi qua, volevo eliminare questi qua io perfetto ok, facciamoli passare ma io potrei anche dire di lasciarli stare proprio tanto vado in due adesso il problema è che è 144 metri di là eh si 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 no ma per farvi... vedi dove c'è la scala dammi? la vedi? si la scala dove c'è il terzo, ci potremmo stare da là si 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 ok perfetto ok 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 bianchi stanno tornando dopo provanti all'esterno e mattino occorre solo per attraverso no si si sono di qua ok quindi la scala ragazzi lo stelt non ha dato proprio un buon fine porca puttana ok 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 accordo di noi sta venendo su dc no secondo me è rimasto giù è rimasto giù ok tanto meglio tanto meglio per noi ok ok io però farò una cosa questi qua non ce l'abbia selezionato mancuno io ci do giusto un altro cantina almeno ci abbiamo vediamo cosa fanno si signore ok andiamo in più di qua che vedo allora qua dovremmo far saltare i riflettori giusto corri dai mi stanno vedendo mi stanno vedendo cazzo io mi sono messo qua si ok lì c'è qualcuno eh perchè ora sto essendo in come sta venendo come sta venendo sta venendo ma che sta salendo fallo salire io vado giù è quello che ci cestava prima david si vedo un attimo se riesco a eliminarlo questo qua non sparare trovo eh no no ti hanno visto il cazzo eh han trovato il corpo ma no non mi hanno individuato sto sempre in allerta vediamo se salgo su guarda Dani passa di qua dove sto andando io va bene direi di andare avanti perchè sennò qua ci inchiappettano arrivo qua per il momento è tutto pronto ok l'ispezione del nemico ma a noi non ce ne frega un cazzo tanto abbiamo passato la zona sono dietro i temati vedo un attimo come è 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 seleziono quelli che posso qua eh li marchiamo un attimino mi sanno che non c'è nessuna vedete nessun cecchino sull'alto no il cecchino c'è mi sa o no non sembra ok allora eh vediamo un attimo eh da qua noi potremmo eh buttarci su trova il capitano del porto come mai? trova il capitano del porto eh sono quelli la che erano in no c'è uno di fronte a noi Dani lo vedi? sì 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 è quello lì che comunque era in allerta dall'altra sezione secondo me viene da lì ah ok lo dicevo potremmo fare trova il capitano di porto qua del porto di porto uscide il comandante del porto corrotto intanto la strada ci porta poi Dani non vado a muoverci cosa sta venendo verso di noi? 109 metri da quella direzione là da qui si può scendere da qualche parte sì sì ci abbiamo due qua sotto Matti occhio che da lì scendi eh dalle tubature gialle e questa qua è praticamente una sezione della della mappa scendiamo di qua puoi scendere giù dalle tubazioni? possiamo andare a sinistra sì puoi scendere giù dalle tubazioni ma prima ci sei buttati giù da qua è quello è andato dentro vai vai ci puoi fare Matti? vai cazzo aspetta un attimo eh c'è mosso quello dimmi quando ce l'ho dovrei ok Dani che vieni qua dietro eh ci sono ci sono faremo verso di te abbiamo proprio uno qua ok no aspetta che c'è uno qua eh hai visto? ehm proviamo ad arci a buttarci nel senso l'uomo 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 per la possibilità dobbiamo andare di là quindi dalla sua strada sì dobbiamo salire su facciamo salire su facciamo salire a domanda la pistola sì l'uomo la pistola che proprio sono forse da sparare un pistola pistola dove cazzo è la pistola dove cazzo è la pistola dove mettere munizioni normali volcote bolt action silenziato ok perfetto io direi di avanzare un altro giusto non è scuro ma ok così ok allora ho provato io le scale danni non vorrei dire ma ce ne abbiamo due eh no un è giù si un è giù e non è selezionato sbaglio no aspetta che ci vado a scuola c'è dall'altro lato sta girando matti e sta girando se lo becchi frontalmente triangola ti fidare della pistola no pistola proprio non fido niente no però non è vai matti vai matti lo dovresti becchare alle spalle si ce l'hai vai il tuo perfetto questo questa è andata occhio che culo hai visto? hai visto? si si che culo leviamo il corpo che questo se riesce ci abbiamo io mi metto qua nell'angolino che se per caso esce da nello uccido tra cui il corpo buttato nel cespuglio eh cazzo mancia cazzo con una facilità i corpi li lanciano si che lancia i corpi da 60 kg come si possa sarà anche pochi 60 kg entro allora matti questo non sta tornando indietro sta facendo di pattuglia eh mh avanti e indietro quindi io non so se ce ne abbiamo anche una a destra occhio matti eh di veri puntini bianchi si 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 vedo lo vedo che sta arrivando però fa l'uscire eh non mi dovrebbe vedere di qua no? no in teoria no però ci dovesse essere ci sono io che lo piglio subito ok andata suorlo tutto suorlo tutto suorlo tutto si occhio ce la dovresti avere uno sulla destra matti eh sto guardando ma non vedo nessuna mi dispiace perché vedete un pallino bianco magari non è proprio no no c'è un pallino bianco ma è qui dentro e dorme no aspetta allora no no non dorme non dorme per l'obietta ok trova il capitano 45 metri bene qua bisogna ucciderlo no bisogna fare così ok dov'è? dal gabiotto interno? si si interno ma sta uscendo è operatore radio questo qua cazzo aspetta la porta è di là è girato di spalla vero? allora io ti posso aiutare da qua se io ho girato di spalla e sta controllando le radio che cazzo eh aspetta veloce vai perfetto ma ottimo abbiamo due in non correre non correre non correre non correre due in allerta vorrei prendere fuori il corpo e buttarlo qua dietro due in allerta uno col tetro cattivo stanno salendo merda no ti sta salendo eh andiamo via andiamo via dai eh ma beccano il corpo no l'ho buttato sopra l'armadio Mattia appena entra non lo so fagli entrare un attimo appena entra te prendi il secondo eh si io prendo il primo ma ti cazzo eh lo ha preso, lo ha preso non ha sparato? no grande non c'è nessuno in allerta grandissimo mattia grandissimo pensavo che mi aveva beccato no hanno trovato un uomo a terra perchè ti hanno visto uccidere qualcuno lì no 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 grandissimo cazzo pensavo che mi aveva beccato capitano dovrebbe esser qua secondo me quale avanti avanti anni se avete due ok uccide il comandante per porto via libera mi piacerebbe quale essere l'ufficio del comandante del porto voglio dare una sbirciatina ok dentro non mi sembra che ci sia no però abbiamo dei documenti si allora guardo un attimo vai 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 allora qua che cosa abbiamo trova il capitano aspetta vedo cosa c'è però prima eh quest'altra la tieni premuto per raccogliere opzioni prove dei dettagli ok eh 13 giugno 1943 gentile signor capo ho già accenato ai miei sospetti su Raffaele Maraschin ora ho scoperto che Maraschin è il nipote del famigliato criminale Salvatore Dinelli credo che ora sappia oltre ogni ragionevole dubbio chi sta rubando dal cantiere navale prenderò misure adeguate con i migliori auguri il comandante del porto Gino la terza dovrebbe essere questo quale dobbiamo far fuori ok si documenti vari options ok Serini non sono riuscito a trovarti sono andato nella zona di stoccaggio meridionale per ispezionare la spedizione più recente se incontri quell'anima traviata di mia figlia Maria dille che voglio parlarle la terza quindi sappiamo che è nell'area di e dov'è l'area? eh non lo so aspetta una mappa per vedere vediamo un po' la mappa teoricamente metri se che già non si è a tedesco neutralizza i riflettori sui cannoni neutralizza i riflettori la terza ecco la terza ecco la terza ecco la terza quale altro Dani? quello che hai evidenziato a te non me lo dà ti vuoi vedere un altro colore? no 73 metri perfetto ma non nella minimappa ma a livello di gioco ok ok si a livello di gioco con lo dà anche ma oltretutto ci abbiamo due forse dobbiamo prendere due piccioni con una fama speriamo sarebbe male vero? controllo che non dice qualcuno sa che a volte si trono e sceglie si 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 vai un po' pieno allora ci abbiamo due militari qua a sinistra Matti eh sta arrivando che rompo coglioni però ci abbiamo al di sotto mi sa eh non vorrei dire una chiesa si si ci sono sotto sono esco un attimo a vedere eh me la rischio due secondi ma ok sono qua fuori il nostro capitano di merda è lì si potrebbe passarvi qua la mia è tranquillo ci sono abbastanza punti per però lo evidenzio il tipo qua eh almeno ci abbiamo marcato ce ne abbiamo uno all'interno della casa a sinistra cazzo qua proprio merda occhio si sta muovendo io tardo ad arrivare ti guardo un po' studiati un po' il percorso magari vedi io però potrei fare cazzo di percorso sta fatta non l'ho fatto prima però il percorso non maledetto ah ok 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 speriamo di aver finito cazzo ok ok ritorno a su per me qui da me la londra da meron per toman lanta se potrei fregarmelo qua questo qui eh vediamo una data no ma io la che devo passare un po' pregato dal carico come si vede tutte le spalle del cadere ok va bene non voglio azzardarlo va ma si va a trovare il piede di chiamo si è simpatico il formello corti il segno non ci interessa signor capitano ho sentito un uomo strano no non ho un uomo a te quando ti individuano se no quando non ci spugnano e ti spugnano ti faccio spazio capitano fatto di quattro il tutto no fa avanti indietro l'incorso in quella linea di noi dobbiamo eliminare i materiali limiti guarda tanto marchiamo le mani occhiali non c'era il studio no 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 sicuramente non mi muovo da qua non mi piace adesso se tu vedi questo qua possiamo anche attirarcelo il tipo no no ma se questo qui tu gira guarda cosa fa divangolo se ci fermo qua dietro no non è venuto prima qua fallo fuori non è venuto non è venuto che falle sbaglio ok devo tenuto una volta sola l'ho avuto qua l'angolo lancia è andato sembra che qualcuno ci stia osservando sì sì ci stiamo osservando infatti valedetti siamo proprio due passi da andare dal fondo perfetto lo stronzone a livello sottostante questa qua ragazzi dovrebbe essere la sezione della mappa online eccola qua tutta questa sezione qua è del multiplayer sono qui Dani cioè posso eliminarlo eh se non si muove è andato ok bravisci perfetto ora ci rimane da levalo da qui si lo butto qua nella galleria eh anzi no qua di lato mi piace di più signor comandante a parte che non ho ispezionato il corpo vediamo un attimo è capitato cazzo dali occhio sale qualcuno sta andando su sta andando uno su però sta andando in mezzo a strada sono in due suono ne abbiamo selezionato solo uno ma anche l'altro che però saranno quelli che rompono i foglioni per andare a fare il punto d'amissione vedi che dobbiamo salire con la scala d'acciaio si 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 adesso non lo dovrebbero fare quel giro e tornare indietro no? o girare il palazzo ok guardiamocì se girano il palazzo è tanto meglio per noi ma io credo che tornino indietro stanno tornando indietro torniamo indietro anche noi Matti ci mettiamo qua dentro se possiamo dai si 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 conviene aspettare un attimo li osserviamo no hanno girato davanti al palazzo il quattro giro stanno facendo secondo me stanno andando un po' a random però ce la possiamo alzardare con una corsetta eh vai proviamo stanno salendo su ok vai perchè ci la facciamo vai 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 stai 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 di quando sul tetto non corre Matti eh non vorrei che ci sentissero sotto cecchino un paio me la rischio con riflettore mattia per il tasto che è schiacciato per il quadrato cazzo catturano dobbiamo aspettare che si levi dal cazzo dovrebbe girarsi maledetto ok si si vai vai il viaggio di noi eh dove vai mi sdrai a terra vengo lì da te mi piace qua guarda matti conviene venire anche te qua direi che ci possiamo salutare qui non è andata malissimo peccato di inizio però direi che ci siamo mossi abbastanza bene a sto giro no? si 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 stavolta si stavolta mi è piaciuto molto via è andata bene si ok ragazzi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale spoliciate lì in su seguitemi anche su facebook condividete e noi ci becchiamo la prossima volta con sniper elite 4 andiamo avanti ciao ciao a tutti ragazzi ciao